Buongiorno a tutti. Allora, io sono l'ingegner Samuele Perni e inizieremo adesso questo webinar prospect che riguarda il software FLAC 3D. In particolar modo vedremo un tema molto molto interessante e specifico come un tema riguardante le faglie, quindi la modellazione tridimensionale di natura geologica che può essere applicata anche all'ambito di quelli che sono la tettonica delle faglie. Quindi diciamo che è un argomento estremamente interessante. Come sapete Arpa CEAS è stata fondata nel 1990 da un gruppo di ingegneri che precedentemente avevano maturato esperienza presso lo studio Finze Associati a CEAS. Oggi presentiamo un portafoglio che comprende tra i software BIM più diffuso a livello mondiale e software per il calcolo strutturale e geotecnico. Inoltre la nostra proposta si completa poi con quelli che sono i servizi per l'implementazione possiamo dire del BIM e la formazione specialistica per tutti coloro poi sostanzialmente che operano nel settore delle costruzioni. La nostra forza è in generale quella di avere più di 30 anni di esperienza in un gruppo che è costituito da più di 50 persone, quasi 60 persone, prevalentemente architetti ed ingegneri. Essere protagonisti della trasformazione digitale nel settore delle costruzioni e l'adozione del BIM come metodo per l'innovazione della filiera basandoci su quelli che sono i nostri pilastri fondamentali. Innovazione, competenza, ascolto del cliente e indipendenza sono i quattro cardini fondamentali che sostanzialmente ci hanno guidato finora per quanto riguarda la nostra attività. I nostri clienti sono tra i principali progettisti architettonici, geotecnici, infrastrutturali, map strutturali e space planning designer. Abbiamo poi carpentieri metalliche con EPC company, general contractors, imprese di costruzione, prefabbricatori e produttori. Poi abbiamo asset owners, developers, global service company, stazioni appaltanti pubbliche, real estate owners e developers. Allora, il portafoglio dei nostri prodotti principali riguarda sostanzialmente la commercializzazione di software di BIM authoring come il Tecla Structure, il DDS CAD, l'Alplan, il NovaPoint, il Trimble. Poi abbiamo strumenti per quanto riguarda il BIM, Information Management come Soli, Brico Builder, DROFUS, Stream. Il CDI che riguarda il Common Data Environment come il Trimble Connect, Quadri e BIM Plus dell'Alplan. E poi chiaramente l'ambito del calcolo strutturale e del calcolo geotecnico tra i quali, per quanto riguarda il calcolo strutturale, offriamo il software Midas Gen della Midas IT, il Modest della software House Technisoft LX Finest, passato recentemente di nostra proprietà. Il calcolo geotecnico prevede il software Paratie Plus, anche questo passato a partire dal 2022 di nostra diretta proprietà, e poi i software della suite Itasca che sono appunto il FLAC 2D e 3D, di cui oggi parleremo in maniera approfondita, e l'UDEC. I nostri partner istituzionali, questi sono alcuni dei nostri principali, diciamo, partner dal punto di vista istituzionale, nomino per esempio alcuni come l'EU Center, l'ISI, l'Università degli Studi di Pisa, il Politecnico di Milano, l'AIS, che è l'Associazione di Infrastrutture Sostenibili. Poi abbiamo partner commerciali, tra i quali rientrano tutte le software House, dei software che commercializziamo come Alplan, Dirofus, Solibri, Spectra, Builder, ICMQ, Itasca. Per quanto riguarda il servizio BIM, il servizio BIM si basa sulla formazione, diciamo, relativamente all'argomento del BIM, ritagliata su misura, che viene organizzata, customizzata sulle seguenti tematiche, che sono l'inquadramento normativo e giuridico, le tecnologie e metodi delle procedure, la consulenza che riguarda l'implementazione del BIM con un percorso studiato su misura, che può essere un progetto kick-off, un workshop introduttivo, la valutazione delle procedure e tecnologie, e poi, chiaramente, ARPA-CEAS è anche organo di valutazione presso l'ICMQ per il conferimento della certificazione per queste figure professionali, che sono BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDI Manager. Il BIM Development Center è un servizio di sviluppo e personalizzazione di software ad hoc che possiamo fare per voi, sulla base delle esigenze del cliente. Quindi, valutazione del miglioramento dei processi, implementazioni, impostazioni specifiche per il cliente, estensione funzionalità di software, sviluppo di quelle che sono delle applicazioni stand-alone e poi applicativi per elaborazione autonoma. I risultati è una riduzione di quelli che sono i tempi e i costi, una minimizzazione degli errori, automatizzazione e digitalizzazione delle procedure. Per quanto riguarda i servizi di calcolo, tra cui rientra chiaramente il FLAC 2D e il FLAC 3D, parliamo sia nell'ambito strutturale che nell'ambito geotecnico di corsi di formazione che possono essere basse, ma anche poi un'analisi più specifica riguardo le strategie di modellazione e le procedure per quella che è la corretta interpretazione dei risultati, oltre al tema poi della interoperabilità dei software di calcolo strutturali e i modellatori BIM. Quindi parliamo proprio di affiancamenti specialistici. Per quanto riguarda la customer experience, cioè l'attività di assistenza, questa presuppone versioni supporto telefonico, teleassistenza e seminari online, che vengono fatti con una certa cadenza, affiancamento su un progetto specifico che può essere richiesto dal cliente, quindi una sorta di consulenza specialistica, che rientra poi nell'ambito anche della formazione base avanzata, con corsi online personalizzati e corsi in aula, e poi abbiamo l'ARPA CEAS Club, che è l'area riservata al cliente sul nostro sito, dove si possono scaricare delle FAC per quanto riguarda delle richieste specifiche. I creatori principali dei nostri percorsi formativi abbiamo chiaramente tutti, la maggior parte, degli ordini professionali, associazioni professionali e industriali, oltre che le diverse università, che poi sono i principali creatori anche di master, di primo e di secondo livello. ARPA CEAS contribuisce poi attivamente anche alla scrittura di quelle che sono le normative BIM, sia a livello italiano che sostanzialmente europeo, questi sono alcuni esempi come la UNI 11337 e la SCENE per quanto riguarda il Building Information Modeling. Il progetto Samba è un altro progetto che ci vede protagonisti relativamente al discorso della introduzione dello smart building e quindi delle tecnologie emergenti come il 5G per quanto riguarda il patrimonio immobiliare esistente. Poi c'è il project Heritage BIM che si inquadra nell'ambito dell'offerta formativa europea. Ponti Sicuri, che è un applicativo di grande interesse per quanto riguarda questa la gestione digitale della classificazione del rischio, la valutazione e della sicurezza dei punti esistenti. Questo è stato creato grazie poi a un progetto di ricerca, un applicativo molto interessante, direttamente con il Dipartimento di Ingegneria Civile Industriale dell'Università di Pisa che poi ovviamente comprende diversi nostri applicativi tra cui chiaramente il Tecla Structure, Trimble Connect e Trimble Quadri. L'Innovation Change è una start-up che è innovativa, che in generale anche qui ci vede protagonisti per quanto riguarda l'obiettivo di proporre soluzioni che puntino ad integrare il BIM con l'architettura blockchain, alcuni dei nostri principali clienti per quanto riguarda la consulenza BIM e poi abbiamo anche clienti come società di ingegneria, queste sono alcune delle tante, poi società di architettura, committenti per quanto riguarda la customizzazione dei software e poi abbiamo anche clienti come General Contractors e imprese di costruzioni. Altri nostri clienti come società di validazione e di certificazione come l'ICMQ, Rina, Conteco. Altri nostri clienti, arriviamo alla fine con l'elenco diciamo delle principali università della ricerca, questi sono alcuni numeri che testimoniano la bontà del nostro lavoro oltre sicuramente a un aspetto fondamentale che è dato diciamo oltre che va bene dal fatturato sicuramente che è un aspetto importante anche dal grado di soddisfazione che i nostri clienti hanno nei confronti del nostro lavoro quindi proprio in termini di affiancamento, formazione e consulenza specialistica per cui il 95,5% dei clienti dichiara che consiglierebbe Arpaceas ad un amico quindi questo è un aspetto sicuramente molto importante. Ci potete seguire poi sui nostri social LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Questi sono diciamo i nostri riferimenti e in generale appunto il sito internet e per eventuali domande l'email. Allora, il software chiaramente di riferimento in questo caso è il FLAC 3D. Il FLAC 3D è un codice di calcolo al continuo per analisi di problemi geomeccanici sviluppato direttamente dalla software House Itasca. Siamo alla versione 7 del FLAC 3D, possono essere effettuate tutte le diverse tipologie di analisi per cui possiamo sostanzialmente fare sia analisi di tipo meccanico sia analisi di tipo idraulico e analisi dinamiche. Inoltre, un altro aspetto sicuramente fondamentale è sì un altro aspetto sicuramente fondamentale è questo ovvero la possibilità di integrare il nostro FLAC 3D con una serie di moduli di grande interesse in particolar modo oggi chiaramente dovendo vedere il discorso sulla modellazione tridimensionale delle faglie parliamo sicuramente del modulo dinamico che permette di fare quelle che sono delle analisi temistori. Poi abbiamo se per caso ci sono problemi di condivisione di audio ditemelo eh ma penso che non ci sia nessun problema. poi c'è il modulo termico e poi che riguarda l'analisi termica il CRIP che è un modulo per quanto riguarda la deformazione, lo studio delle deformazioni secondarie e poi il C++. Questa è una rapida descrizione del FLAC 3D il FLAC 3D permette la modellazione di qualunque problema che riguarda il terreno, le rocce, analisi di filtrazione, analisi per fasi può in generale includere anche il calcolo del fattore di sicurezza e lo studio di quelli che sono gli spostamenti allo stato limite ultimo inoltre può essere utile come nel nostro caso anche con una serie di strategie di modellazione molto accurate a modellare quelle che sono faglie e sistemi di discontinuità. questo lo rende sicuramente uno strumento vincente anche per la modellazione di quelli che sono gli ammassi rocciosi che nel caso in cui uno volesse una rappresentazione totale verrebbe fatto con il software tridec, tridimensionale che utilizza il metodo degli elementi distinti ma comunque il FLAC 3D anche per quanto riguarda quella che è la modellazione di sistemi, di piani scistosi, piani di discontinuità può offrire una risposta sicuramente molto molto importante anche per quanto riguarda la meccanica delle rocce. Il software si basa sulla schematizzazione della soluzione esplicita alle differenze finite questo per distinguerlo rispetto ad altri applicativi che utilizzano il metodo agli elementi finiti il metodo alle differenze finite ha come vantaggio fondamentale sostanzialmente quello di legare le equazioni del modo ai grid point che costituiscono la nostra griglia e quindi di conseguenza non essendoci le zone come elemento finito e quindi le loro funzioni di forma questo permette di non dover immagazzinare ogni volta e modificare la matrice di rigidezza. Questo aspetto qui secondo me è molto importante per quanto riguarda la modellazione di sistemi geotecnici complessi perché il metodo alle differenze finite rispetto al metodo agli elementi finiti ha una serie di vantaggi soprattutto quello legato al fatto di poter seguire modellazioni più avanzate che comportano forti elementi di non linearità che possono essere giunti, che possono essere modelli costitutivi non lineari che possono essere interfacce in cui andiamo a simulare delle discontinuità oppure situazioni non lineari rappresentate anche da fenomeni di smorzamento esteretico cicli di steresi nel calcolo sismico queste sono tutte situazioni che il metodo esplicito alle differenze finite è sicuramente migliore. Inoltre permette di studiare fenomeni deformativi molto molto più accentuati rispetto al metodo agli elementi finiti per cui la convergenza fisica, la non diciamo l'istabilità fisica può generare una istabilità numerica. L'altro aspetto secondo me fondamentale del FLAC 3D che adesso vedremo con degli esempi pratici è ormai la sua totale capacità di avere degli ambienti interni che permettono di creare delle geometrie tridimensionali attraverso delle modalità cosiddette menu driven cioè attraverso il mouse quindi abbiamo due situazioni gli ambienti interni che sono ambienti di creazione geometrica all'interno del FLAC 3D o del Tridec oppure la possibilità di collegarsi a degli ambienti esterni di costruzione geometrica magari anche più dettagliata come il Rhino o il Griddle quindi abbiamo due opzioni. Nell'ambito della prima opzione cioè quella di utilizzare gli ambienti di costruzione geometrica abbiamo il tool dell'extrusion che viene che vedremo adesso che viene molto utilizzato per l'importazione di DXF e successiva creazione in questo caso di un versante per esempio con successiva creazione del modello tridimensionale tutto fatto attraverso il mouse oppure per geometrie più semplici abbiamo un altro ambiente che fa parte del FLAC 3D che è il Building Blocks che permette di costruire delle mesh regolari strutturate molto molto utile nel caso di quelle che sono delle geometrie tridimensionali abbastanza semplici. Nell'ambito invece del secondo livello cioè degli ambienti di secondo livello è chiaro che il FLAC 3D permette di andare a generare delle geometrie e importare delle geometrie che possono essere create direttamente da Griddle che è sostanzialmente un plugin di Rhino e quindi arrivare a delle geometrie molto complesse come queste con cave, dighe, queste cose qui. Queste sono alcune immagini sostanzialmente del diciamo della potenza proprio tridimensionale del software proprio che permette sia con le importazioni sia con diciamo gli strumenti di generazione diciamo esterna, interna di creare geometrie che vedete iniziano a essere sicuramente estremamente importanti. La seconda parte che riguarda le faglie la riprendo tra un attimo perché volevo subito mostrarvi le potenzialità per la costruzione di geometrie complesse come quella del pendio del versante su faglia che andremo a vedere che adesso il FLAC 3D permette di utilizzare quindi adesso voglio proprio mostrarvi quanto il software sia diventato estremamente facile per quanto riguarda la costruzione geometrica in particolar modo farò vedere adesso l'ambiente extrusion che è un ambiente di modellazione geometrica interno al FLAC 3D con cui possiamo costruire una mesh bidimensionale e poi estruderla in un'altra direzione questo è uno strumento molto molto forte diciamo perché parte dal DXF creiamo, diamo un nome al nostro ambiente extrusion che per esempio possiamo chiamare versante facciamo ok e possiamo importare direttamente vado a pescare il mio file DXF eccolo qua di un pendio 2D eccolo quindi questo è proprio un disegno semplicissimo fatto in AutoCAD importato lui lo riconosce come immagine di sottofondo e possiamo tranquillamente dirgli di riconoscere questa immagine come dei segmenti come degli elementi meshabili in FLAC 3D basta cliccare su questo comando e lui vedete mi parte da quella traccia e mi ricostruisce sostanzialmente nel piano 2D quello che è lo schema del nostro versante quindi come elementi riconosciuti e meshabili possiamo poi decidere di effettuare quella che è la mesh e di conseguenza supponiamo di fare una mesh assolutamente uniforme e scegliamo di fare una mesh di circa un metro per cui clicchiamo appunto su ok lui predispone diciamo i vari punti di discreditazione dei segmenti con una spaziatura di un metro e a questo punto con questo semplice comando gli diciamo di creare i nostri blocchi eccolo qua lui praticamente in 3 secondi mi ha creato una mesh bidimensionale del nostro versante che può essere complesso quanto vogliamo direttamente nell'ambiente extrusion 2D chiaramente questa nostra diciamo mesciatura bidimensionale possiamo estruderla nella terza dimensione supponiamo in Y facciamo un'estrusione ad esempio magari di 40 metri quindi settiamo una direzione di estrusione in Y di 40 metri diamo un numero di discredizzazioni anche nell'altra direzione ad esempio facciamo 20 metri 20 discredizzazioni che sostanzialmente significa che questi elementini saranno di 2 metri nell'altra direzione e a questo punto clicchiamo pure qua sul nostro diciamo comando ecco qua e lui mi fa vedere andiamo su control R eccolo qua il mio modello tridimensionale pronto fatto che in generale posso diciamo già utilizzare perché posso utilizzarlo subito perché lui diciamo riesce a tradurre sotto forma di script tutto quello che abbiamo fatto attraverso questo comando che si chiama state record perché una volta chiaramente andava tutto scritto adesso diciamo c'è la possibilità grazie agli sviluppi di fare tutto in questi ambienti lui ha un traduttore interno che mi traduce sotto forma di script quello che è stato fatto e quindi copiarlo e andarlo poi a salvare ad esempio in un file dat che sostanzialmente contiene il listato della costruzione geometrica una volta tutta questa parte andava scritta da noi adesso vedete lo sviluppo del software è diventato tale che è lui che traduce quello che noi facciamo con il mouse e noi lo andiamo a copiare come script quindi di fatto diventa un semplice copia ed incolla quindi vedete che questo modello tridimensionale in meno di cinque minuti l'abbiamo costruito vi voglio far vedere però adesso ancora altre potenzialità degli ambienti di costruzione geometrica sempre orientati ai versanti e alla modellazione degli ammassi rocciosi che il software permette di gestire e su questo ho preparato una serie di esempietti che sono molto molto diciamo illustrativi della cosa eccolo qua allora questo qui possiamo chiaramente eccolo allora questi sono tutti file molto molto semplici punto dat che diciamo sono degli esempi molto semplici in cui si va a costruire praticamente ve lo faccio girare un attimino diciamo a porzioni si costruisce un blocco che può essere sostanzialmente ecco un cubo supponiamo quindi di avere qui il nostro cubo quindi nel nostro modello abbiamo un cubettino quindi molto molto semplice a questo punto vogliamo per esempio simulare nel Flac 3D la presenza di quelli che sono dei piani di discontinuità cioè noi vogliamo un blocco che abbia poi una diciamo riconosca nella mesh delle discontinuità che possono costituire per esempio dei piani di scistossità degli ammassi rocciosi e io conosco queste discontinuità perché magari ho dei dati geofisici o ho sostanzialmente altri tipi di dati che prevedono l'importazione di piani di XF allora è molto molto semplice io posso nell'ambiente geometri ve lo faccio vedere da qua che è un altro degli ambienti sostanziali che mette a disposizione il Flac la possibilità di importare in questo ambiente geometri qualunque tipo di superficie o in generale anche di solito che sia sottoformato di XF o STL per cui io posso andare qui e importare ad esempio questo piano di discontinuità chiamato S1 che è un semplice di XF gli diciamo pure di importarlo e lui poi me lo importa se me lo fa vedere faccio rigirare da qua eccolo qua questo è un piano come di XF che è stato importato e che io per me costituisce sostanzialmente quello che è il mio piano di discontinuità rispetto al modello eccolo qua quindi in questo caso vedete adesso lo vediamo meglio qui sono stati diciamo importati dei piani che lui riconosce in automatico e che mi permettono quindi di spezzare sostanzialmente il nostro elemento possiamo anche vederli direttamente da qua andando sostanzialmente nel nostro geometri ecco questi sono due piani in questo esempio erano stati importati due piani che sono il piano S1 e il piano S2 possiamo anche vederli diciamo da qui eccolo qua S1 e S2 questi sono due piani di discontinuità che io posso importare come di XF e poi dirgli di creare un gruppo rispetto a questo piano così lui sostanzialmente alla fine mi crea diciamo questo il nostro blocco risulta essere diciamo spezzato rispetto a questi a questi piani quindi ho diciamo rappresentato delle discontinuità queste sono situazioni che potete avere nel caso ad esempio di rocce fratturate o versanti fratturati o spalle nel caso delle pile da ponte in cui volete simulare delle discontinuità ben definite questo è un altro esempio per esempio diciamo che può essere interessante o per esempio una volta che adesso ho finito di girare vi volevo far vedere un altro esempio che è l'ultimo come per esempio il 6 in cui ci sono anche delle superfici un po' più complesse quindi non per forza dei piani ma queste sono proprio delle semplicemente si apre l'ambiente geometri e si va ad importare sostanzialmente quello che è il nostro il nostro file eccolo qua vedete oh bellissimo questo è un esempio diciamo si vede benissimo in cui sono stati inseriti diversi piani di discontinuità diversi piani di discontinuità con diciamo le nostre superfici così fatte in questo modo ecco qua possiamo in generale adesso nel geometri plottare le diverse superfici che S1 S2 fatte così vedete quindi dei piani di discontinuità lineari e poi magari ecco per esempio unire e considerare come discontinuità anche delle superfici dei file che sono delle superfici concave lui chiaramente andrà a diciamo tener conto nella mesh di questi elementi andando quindi ad intersegare proviamo un attimo a mettere questi elementi così e quindi ottenere ecco vedete questo diciamo è palesemente un blocco fortemente con dei piani di cistossidano e quindi poter gestire anche queste situazioni questo è un aspetto sicuramente interessante l'ultimo esempio che volevo farvi vedere è chiaramente poi la possibilità oltre alla definizione di piani di discontinuità di poter importare anche delle superfici da piano campagna che quindi sono dei file STL eccola qua che è proprio una superficie e magari su questa poi andare a mettere i piani di discontinuità adesso lo vediamo in grigetto perché è spento sulla quale puoi costruire il nostro sostanzialmente modello quindi se andiamo a vedere eccolo qua vedete qui che cosa ho fatto io ho generato in questo esempio un blocco ci ho spalmato sopra questa superficie che quindi si adegua e poi ho introdotto anche un piano di discontinuità che era quella S1 che poteva diciamo essere una traccia di una faglia o di un un eventuale diciamo piano di scorrimento e lui quindi nel mio modello ecco qua che mi crea questa porzione sulla quale io poi posso caratterizzare diciamo determinati parametri c'è una domanda sì allora le domande ovviamente potete anche scrivere assolutamente poi vi rispondo vi rispondo dopo quindi diciamo alla fine poi vi rispondo quindi vedete come è facile ormai la costruzione la gestione degli elementi di discontinuità possono essere anche più di uno e quindi poi gestirli in diversi modi adesso chiudo un attimino questo modello di esempio e torniamo un attimo sulla presentazione perché volevo farvi un attimino vedere tornando sulla mia presentazione la parte relativa alla tettonica perché perché questo discorso chiaramente è funzionale un modello più complesso che è quello che adesso vi vado a mostrare che riguarda proprio la diciamo una curata devo dire uno studio estremamente interessante per cui avevo il piacere di condividere con voi che riguarda lo studio del potenziale sismo genetico su un versante in cui erano state individuate tre potenziali faglie e la curatezza con cui la modellazione numerica permette poi di fare discorsi che riguardano proprio le deformazioni intersismiche legate al fenomeno avviamo la presentazione un attimino dall'inizio quindi diciamo torno sulla parte che è relativa alla modellazione delle faglie questo chiaramente è il resto possibile grazie ripeto a ormai capacità gigante che il software ha fatto nell'ambito della modellazione tridimensionale dal punto di vista geometrico ormai la complessità geometrica viene risolta con pochi click riuscendo a creare geometrie molto complesse sia nel 3D nel flac 3D sia con l'ausilio se uno vuole di eventuali apporti esterni come quello di Rhino o di Griddle che cos'è in generale una faglia la tettonica sappiamo benissimo che studia la giascitura e la deformazione degli strati rocciosi la faglia è un piano di discontinuità dove c'è la rottura con uno spostamento di masse rocciose stratificate viene detto rigetto l'entità dello spostamento il piano di faglia è appunto la superficie di rottura sappiamo benissimo quanto è importante per lo studio di questi fenomeni e la reologia degli ammassi rocciosi perché le rocci si possono deformare in funzione della loro plasticità di cui sono dotate creando delle strutture che poi vengono dette pieghe una volta giunte al rimedio di rottura queste si fratturano formando le faglie che poi sono in genere diciamo l'elemento scadenante poi dell'evento sismico e del terremoto un aspetto importante è la tipologia di faglia il piano di faglia può essere diretta o inversa il piano di faglia diretta immerge dalla parte del lembo diciamo ribassato il piano di faglia invece nel caso inverso immerge dalla parte del lembo che rialza possiamo avere anche delle faglie trascorrenti in cui questo è verticale e i lembi si muovono in direzione orizzontale poi possiamo avere anche sistemi di faglie dirette che provocano diciamo muovendosi una struttura regionale quindi a grande scala che solitamente viene chiamata fossa tettonica questo inquadramento adesso generale che riguarda diciamo l'aspetto prevalentemente geologico e diciamo sismico è però importante perché chiaramente quando poi questi risultati numerici che poi vengono spesso supportati da risultati di monitoraggio quindi dati solitamente geofisici o geodetici necessitano poi di una modellazione numerica che validi questi dati di monitoraggio perché è molto importante questo perché nel caso delle faglie è valutare il potenziale sismo genetico delle cosiddette faglie bloccate una volta stabilito che tipo di faglie è perché in un ciclo sismico sappiamo benissimo che la fase intersismica è quella che viene dopo la fase post-sismica e che precede un forte terremoto quindi è molto molto utile andare ad individuare le faglie bloccate perché esse possono avere un potenziale un forte potenziale sismo genetico infatti nel caso in cui la faglia è bloccata come si vede sostanzialmente da questa immagine si va a accumulare un certo stress che viene poi rilasciato quando la nostra faglia diciamo poi degenera sostanzialmente in un terremoto ripeto che i dati sono dati di tipo geotetico e geofisico che fanno riferimento a scale diverse diciamo temporali sostanzialmente diverse quindi nella fase intersismica sappiamo bene che è fondamentale valutare quella che è l'ampiezza sostanzialmente della cosiddetta faglia bloccata durante il periodo intersismico e in generale perché? Perché la magnitudo di un determinato terremoto è poi direttamente proporzionale a quella che è la dimensione del segmento bloccato quindi vediamo che lo spostamento questo è il piano di faglia lo vediamo meglio da qui con un'opzione di puntatore è il piano di faglia bloccato a questo punto si va a rappresentare lo stato tensionale normale lungo il piano di faglia quindi diciamo che è fondamentale capire quello che è poi lo stato tensionale resistenza a taglio che si ha nella fase iniziale e poi nella fase intersismica che è quella che poi che potrebbe essere lasciata nel caso sostanzialmente in cui si sviluppa un terremoto quindi fondamentale dal punto di vista numerico è valutare questa W che rappresenta l'ampiezza della faglia bloccata della sola parte bloccata in maniera tale poi da valutare l'area totale e quindi la magnitudo del nostro terremoto perché quindi la relazione rispetto all'ampiezza della faglia bloccata prevede una magnitudo in termini di momento sismico che va crescendo all'aumentare dell'ampiezza della faglia questi discorsi che sono sostanzialmente discorsi estremamente che diciamo ho dovuto aprire questa parentesi che fa da preambolo al lavoro che adesso presento è fondamentale perché attraverso la modellazione con il FLAC 3D è possibile valutare attraverso una accurata e precisa modellazione delle faglie valutare l'ampiezza della faglia bloccata innanzitutto capire se è bloccata e quant'è la parte bloccata nella fase intersismica quindi significa nella fase diciamo appena precedente quello che è il terremoto per poter poi valutare nel caso di rottura quella che è l'energia massima che questa potrebbe sostanzialmente provocare quindi diciamo in seguito al terremoto questo aspetto è un aspetto fondamentale che è possibile affrontare grazie agli strumenti offerti dal FLAC 3D il FLAC 3D infatti offre un elemento diciamo di modellazione molto interessante che è appunto quello dell'interfaccia l'interfaccia è un elemento diciamo di connessione tra due nodi che diciamo viene creato attraverso una sdoppiatura del nodo e la predisposizione di quelli che sono poi degli elementi reologici al suo interno per cui le interfacce del FLAC 3D hanno delle proprietà di attrito coesione dilatazione rigidità normale a taglio e forza di adessione trazione a taglio quindi durante ogni passo di calcolo la possibilità di applicare un'interfaccia che in questo caso potrebbe essere utile per la simulazione della faglia vengono calcolati lo spostamento normale assoluto e la velocità di taglio relativa per ciascun nodo dell'interfaccia e su entrambi questi viene poi definito anche ipotizzando un legame attritivo a rottura un diciamo un modello costitutivo dotato di resistenza a taglio come per esempio il morculomb lineare che definisce quindi un limite oltre il quale quest'ultima si è sostanzialmente plasticizzata e quindi c'è il movimento quindi l'obiettivo adesso che vedremo in questo modello è un settaggio opportuno dell'interfaccia che diventano quindi le nostre faglie e quindi l'elemento fondamentale della nostra modellazione altro aspetto importante sempre che su questo modello è stato valutato è l'applicazione in maniera indiretta del metodo dello strength reduction che FLAC 3D implementa normalmente nel caso dei mezzi al continuo qui noi stiamo però considerando una modellazione accurata delle faglie per cui vedremo che il continuo è stata fatta un'ipotesi devo dire molto interessante ereditata dal tridec quindi questo per dire che la meccanica delle rocce può essere anche modellata attraverso il FLAC 3D e una rapida presentazione del metodo lo strength reduction serve a calcolare le condizioni di stabilità di un versante andando a ridurre progressivamente quella che è la resistenza a taglio e ad attrito del materiale andando quindi a determinare quella che è la condizione limite ultima di incipiente collasso che si è verificata riducendo di un determinato fattore i parametri di resistenza quel fattore diventa il nostro diciamo fattore questo coefficiente diventa poi di fatto il fattore di sicurezza questo è un procedimento molto molto preciso che dà un'informazione globale sull'analisi sul risultato e ha come limite diciamo paradossalmente solo che chiaramente facendo diverse iterazioni pur dando una risposta globale potrebbe impiegare qualche qualche secondo però è molto molto diciamo precisa e generale questa questa procedura poi chiaramente questo lo dico alla fine ci sono altre anche altri software come della famiglia tasca come l'Udeck il Trideck che nel caso in cui uno voglia fare solo modellazione diciamo della meccanica delle rocce allora lo possiamo valutare allora chiudo un attimino questa presentazione comunque il concetto fondamentale è sostanzialmente questo cercare di simulare quella che è la fase intersismica al fine di valutare l'ampiezza della porzione bloccata che c'è e quindi il potenziale sismo genetico che poi è conseguenza dell'innesco del terremoto e quindi della magnitudine lo stesso apriamo adesso questo modello diciamo molto interessante che è un modello di un versante sul quale attraverso delle opportune tecniche di modellazione siamo diciamo abbiamo modellato una situazione di allora prendiamo il nostro file eccolo qua open eccolo qui allora perfetto allora partiamo dalla fase iniziale che vado a ricaricare allora e parliamo un attimino di questo modello allora questo modello questa c'è uno stage iniziale con una fase iniziale geometrica in questo caso la geometria come vedete è una geometria molto complessa costituita da elementi che sono delle mesh sia quadrangolari che a due nodi e è stata realizzata grazie all'ausilio del griddle quindi diciamo che questa geometria vedete molto semplicemente è stata importata direttamente dal griddle la caratteristica fondamentale diciamo di questa di questa modellazione è stata questa cioè l'individuazione di quelle che sono tre potenziali faglie sismogenetiche allineate su questa porzione di versante sulle quali diciamo si è applicato un accelerogramma fermandoci a qualche frazione di secondo prima del raggiungimento del massimo dell'accelerogramma al fine di vedere quella che era la situazione dal punto di vista della deformazione intersismica cioè valutare se la faglia o le faglie erano diciamo bloccate o attive e quant'era poi la porzione bloccata e la porzione attiva allora nella prima fase di modellazione che era quindi una analisi fortemente incentrata sul discorso proprio del potenziale sismogenetica quindi valutazione dell'ampiezza del segmento di faglia bloccato si sono scelte le seguenti ipotesi le nostre faglie sono state modellate attraverso degli elementi interface eccoli qua lo possiamo un attimino anche vedere meglio così sposto un attimo questa eccole qua questo è il nostro diciamo modello e sono state applicate delle interfacce vedete proprio in viola la più bassa l'abbiamo chiamata faglia 3 la seconda interfaccia è il rosso è la faglia 2 mentre quella superiore è la faglia 1 sono modellate attraverso degli elementi interface poi adesso vi dirò un attimino come è stata fatta la caratterizzazione dell'interfaccia e il resto che invece rappresenta tutto l'altro blocco allora in una prima diciamo simulazione che cosa si è scelto siccome lo metto un attimo in trasparenza siccome si è si è si era interessati a valutare il comportamento deformativo delle faglie e quindi non degli ammassi rocciosi si è adottata una procedura che è stata attinta dal tridec il tridec come poi vi dirò dopo utilizza il metodo agli elementi distinti in cui abbiamo dei blocchi di roccia posso anche vederlo da questa immagine così almeno ecco è più dei blocchi di roccia e dei piani di discontinuità che sono poi proprio dei giunti sostanzialmente che vanno caratterizzati quindi nel tridec diciamo così si caratterizza sia il singolo blocco che la discontinuità quando soprattutto le discontinuità sono molte nel caso in cui uno ha a che fare con rocce sostanzialmente dure nel tridec e questa è stata una cosa poi che abbiamo diciamo derivato e applicato nel flac 3D si ipotizza che la plasticità quindi l'eventuale comportamento deformativo è associato alle discontinuità che sono i piani di debolezza mentre invece il blocco roccioso la matrice rocciosa del blocco rimane assolutamente in campo elastico quindi ti fa questo per dire che i blocchi si muovono indipendentemente l'uno dall'altro lungo quelle che sono i piani di discontinuità questa è una delle ipotesi di lavoro che può essere fatta nel tridec benissimo noi l'abbiamo ereditata e l'abbiamo applicata identica nel nostro flac 3D per questo modello cioè si è ipotizzato che tutti i nostri blocchi che possiamo sostanzialmente vedere qua che sono diciamo questi blocchi così rappresentati che vedete con dei colori il verde il rosso l'arancione che sono proprio delle zone gli è stato attribuito un unico legame costitutivo elastico con un modulo di rigidezza molto molto alto di fatto non ho neanche di fatto era una roccia un diabese cioè di fatto non siamo andati neanche tanto a specificare le caratteristiche di elasticità come il modulo di Young su questi elementi perché di fatto sono dei blocchi per me rigidi quello che a me interessa è una corretta simulazione attraverso le interfacce del piano di faglia che quindi è responsabile degli scorrimenti rigidi questa ipotesi quindi è molto importante perché di fatto trascura il comportamento tenso deformativo che si ha sul blocco interno ma concentra lo studio su tutti gli spostamenti che avvengono parallelamente o ortogonalmente al piano di discontinuità questo è quello che si può fare in tridec e noi abbiamo ereditato e l'abbiamo utilizzato comunque nel FLAC 3D perché l'interesse era orientato sostanzialmente a questo veniamo adesso al secondo aspetto la modellazione della faglia siccome il mio interesse in questa simulazione era quello di valutare il comportamento deformativo e quindi capire se in seguito ad una eccitazione sismica queste faglie nella fase intersismica fossero bloccate o meno allora si siamo andati a caratterizzare in maniera opportuna quelle che sono le nostre interfacce benissimo e sono state infatti create le vedete qua queste interfacce anche l'assegnazione delle interfacce è molto facile attraverso gli ambienti di generazione interattiva perché basta sostanzialmente ecco per esempio selezionare questo blocco accendere solo questo blocco selezionare ad esempio una faccia come questa e poi andare in questo comandino e dirgli di crearmi un'interfaccia quindi lui fa tutto in maniera assolutamente diciamo così interattiva perfetto quindi una volta fatto questo abbiamo creato queste interfacce in particolar modo avevamo la faglia 1 e la faglia 3 che sono queste che vi sto mostrando che sono quelle più esterne che evidenziavano il contatto comunque tra l'ammasso rocciusso che era un diabbaese e la parte interna che era comunque più che altro un materiale un po' più granulare una sabbia addensata ma sostanzialmente un pochino più granulare allora si è scelto quindi di rendere un pochino più resistenti la faglia 1 e la faglia 3 che erano quelle esterne dando valori dell'angolo d'attrito pari a 40 e a 30 con un contributo di coesione e di trazione di resistenza limite mentre invece la faglia 2 che era quella un pochino più su ambo i lembi quindi sia a destra che a sinistra immersa nella nell'ammasso un pochino più granulare diciamo che ha subito un fenomeno poi deformativo nel tempo maggiore si è scelto un angolo d'attrito di appena 20 gradi e un assoluto zero valore di resistenza diciamo di coesione e un valore diciamo di trazione che comunque era basso questo per quanto riguarda quello che era la seconda faglia per quanto riguarda la rigidezza invece è stato utilizzato un valore comunque alto poco più alto di quello delle rocce per garantire comunque una stabilità riguardo sostanzialmente alla convergenza quindi si è scelto comunque di rappresentare tutti questi elementi perfetto allora e qui quindi abbiamo dei risultati chiaramente rispetto a queste che riguardano ad esempio un risultato complessivo degli spostamenti che si hanno in Y che possiamo vedere questo nella fase iniziale geostatica chiaramente poi una fase degli spostamenti in X e una fase degli spostamenti verticali in Z sempre su questi su questi punti possiamo poi era stato presso anche un punto diciamo di history di campionamento che rappresentava il valore del cedimento in Z su questo punto per i vari campionamenti questa è chiaramente una fase puramente geostatica benissimo a questo punto che cosa si è scelto? Si è scelto di fare un'analisi dinamica con il chiaramente perché stiamo parlando di tettonica delle falle quindi il sisma sicuramente c'entra e è stata fatta quindi un'analisi dinamica andando ad importare quello che ha un accelerogramma in questo caso l'accelerogramma è stato applicato solo in Y quindi lungo la direzione diciamo della faglia non in direzione ortogonale è vero che la faglia è inclinata ma è chiaro che per studiare questo abbiamo deciso di fare un'analisi adesso separata con un sisma in una sola direzione questo perché perché il modulo dinamico permette di gestire gli accelerogrammi e quindi diciamo attraverso questo tool è possibile quindi andare ad importare il nostro accelerogramma che è sostanzialmente una history e avere vedete l'andamento la visualizzazione dell'accelerogramma il velocigramma ricavato dall'accelerogramma facendo una sorta di derivazione e l'andamento degli spostamenti come anche lo spettro di Fourier quindi capire un pochino quelle che sono le frequenze principali eccetera a questo punto è stato inserito il nostro accelerogramma quindi è trasformato l'accelerogramma come una tabella è stata applicata un'accelerazione y che seguisse questo accelerogramma alla base quindi sostanzialmente è stato applicato alla base del nostro sistema appunto in y e è stata lanciata per un pochissimi secondi quindi parliamo sostanzialmente di frazioni di secondo diciamo e andiamo a vedere un attimino quelli che sono sostanzialmente i nostri risultati perfetto che ha permesso di ricaricare eccolo qua questo è l'accelerogramma che è stato diciamo inserito è stata fatta girare l'analisi queste sono delle history vedete che queste sono le nostre faglie io poi sono andato a creare delle history le history sono l'andamento di alcune grandezze durante l'analisi in determinati punti e vedete ho scelto praticamente lo vedete dai colori delle history posizionate a diverse quote che possono essere nelle vicinanze direttamente della faglia quindi diciamo vicino alla faglia 1 alla faglia 2 alla faglia 3 e vedete che questo sono l'andamento degli spostamenti mi sembra che io abbia plottato prevalentemente in questo caso vediamo un attimo gli spostamenti possiamo togliere un attimo gli spostamenti in x mettendo solo gli spostamenti in y ecco 1, 2, 3 degli spostamenti vedete che questa è in generale la 1 quindi significa che sono i primi e vedete proprio in giallo i loro sostanzialmente andamenti ecco possiamo rivederli dove per qualche frazione di secondo c'è chiaramente uno spostamento positivo o negativo dei diversi punti in seguito proprio al fatto che stiamo comunque parlando di faglie trascorrenti qui non possiamo rivedere tutto l'accelerogramma come è invece qui ma per un motivo semplice perché non è stato fatto girare completamente per tutta la durata per cui l'accelerogramma durava circa 30 secondi ma solo per alcuni di essi l'aspetto sicuramente interessante è questo che io poi analizzando le singole faglie posso vederle essendo delle interfacce posso vedere i risultati sulle singole interfacce e quindi possiamo togliere un attimo le history e la history location concentrarci sulle nostre tre faglie e a quel punto andare a vedere delle informazioni come per esempio i nodal values che mi dice lo sheer state per esempio se abbiamo o meno raggiunto quella che è una condizione di plasticizzazione a rottura a taglio vedete qua per quella pochissima frazione di secondo la porzione verde e questo è comune un po' sostanzialmente anche a tutte le faglie in particolare la prima che è quella chiaramente che risente di più del peso della parte sopra c'è sostanzialmente un fenomeno di slip past cioè di scorrimento questo è slip new cioè quindi è un'indagine localizzata per quella frazione di secondo in cui è durato l'accelerogramma che mi permette di vedere di fatto la porzione bloccata non slip e quella che invece si è plasticizzata quindi vedete qua di fatto stiamo parlando di faglie che un certo peso ce l'hanno perché di fatto vediamo soprattutto che la slip past è molto poca quindi magari questa porzione qui potrebbe rompersi possiamo vedere la stessa cosa anche nel normal state nel normal state avendo dato un valore all'interfaccia di tension solo di 10 parliamo chiaramente di pascal 10 e kilopascal scusate è chiaro che si hanno dei fenomeni di rottura che possono essere magari più localizzati poi e quindi questa qua è un'informazione sicuramente importante per capire poi di fatto quello che è diciamo la anche la grandezza dell'area di questo elemento per poi risalire diciamo anche con l'ausilio di un foglio di Excel per cui queste qua possono poi essere esportate come file di Excel relativa all'area della porzione bloccata di faglia in seguito a questo evento sismico poi ci sono anche altre grandezze che possiamo vedere come per esempio anche gli spostamenti diciamo il regime di spostamento che può esserci stato solo per quella frazione oppure per esempio il livello di shear stress che si può essere accumulato solo per quella frazione quindi sono numerose sicuramente diciamo le informazioni che relativa a questo accelerogramma possiamo avere questa era una prima diciamo simulazione che è stato fatto su questo modello che era relativo attraverso quindi comunque le history diciamo a una rappresentazione che fosse di fatto ehm eh relativa al comportamento tenso deformativo questi blocchettini qua sono le condizioni di free field che si vengono a creare nel caso praticamente dinamico eh durante l'analisi dinamica una seconda modellazione sempre su questo modello è stata fatta invece per vedere a un'applicazione chiamiamola indiretta dello shear strength del metodo dello shear strength reduction cioè una metodo di ehm valutazione dei valori limiti di resistenza per valutare la stabilità del versante e anche in questo caso ci siamo concentrati interamente ricarichiamo pure la fase iniziale su quello che è la faglia queste in quelle i tre piani di faglia però anche in questo caso quindi ehm non è stata utilizzata l'interfaccia per la modellazione della faglia ma è stata utilizzata una tecnica eh molto particolare che consiste nell'attribuzione alle zone di faccia di un materiale semplicemente diciamo chiamiamolo così eh eccolo qua alla morculomb cioè vi spiego praticamente sono stati creati sul lungo le faglie cioè lungo i piani tra i vari blocchi delle zone a cui è stato sostanzialmente attribuito togliamo questo ecco è stato praticamente attribuito il materiale lo mettiamo in trasparenza eccolo eccolo il materiale morculomb per cui io qui posso andare a mettere come opzione il model ecco mentre tutto il resto diciamo del modello è elastico come prima qua non sono state messe delle interfacce perché perché per questa simulazione io non volevo vedere il comportamento deformativo o capire se quanto questa porzione si era rotta o meno io voglio capire sostanzialmente un eventuale fattore di sicurezza in relazione a quello che è poi la stabilità globale del versante quindi che cosa si è fatto siccome la parte che si deve spostare e rompere è solo questa perché io la conosco do tutto un modello elastico e a queste zone che non sono interfacce ma sono semplicemente delle zone gli do un modello alla morculomb con dei parametri che vado via via abbattendo quindi vedete che tutte queste fasi poi successive di degradazione le possiamo un attimino anche vedere che fanno parte dei diversi stage corrispondono al fatto che io ho applicato in diverse porzioni che sono delle facce la faglia modellata alla morculomb però non con elementi di interfaccia ma come proprietà del terreno e quindi a questo punto si vanno poi a fare diciamo quelle che sono le diverse i diversi abbattimenti andando attraverso una fiche qui in maniera indiretta ma può farlo anche il FLAC 3D in maniera diretta andando ad abbattere i parametri di resistenza e andando ad abbattere sostanzialmente quelli che sono i moduli di rigidezza al fine sostanzialmente di vedere poi per le diverse fasi il livello deformativo complessivo che sostanzialmente si andava diciamo a sviluppare proprio come in termini di contour quindi come spostamenti che si potevano diciamo così avere per le diverse situazioni ecco qua e quindi capire poi quali erano i valori limiti oltre uguali sostanzialmente diciamo la rottura era avvenuta quindi è una sorta di modello diciamo di metodo dello strength reduction che però viene applicato da noi direttamente solo sui piani di faglia utilizzando un legame alla morculomb quindi siamo noi che andiamo lì e ogni volta lo andiamo a ridurre come parametri vedendo quindi la stabilità complessiva sostanzialmente del versante questo è un modello di grande interesse per la complessità geometrica che è stata facilmente affrontata ma anche per i risultati molto precisi che ha dato in fase proprio di modellazione diciamo così diciamo di un versante soggetto a faglie in termini deformativi e in termini poi di rottura a taglio attraverso un approccio che ripeto è stato ereditato e applicato tranquillamente nel FLAC 3D ma che deriva dalla modellazione agli elementi discreti del tridec concludo quindi riproponendo che nel caso in cui ci siano problemi di analisi di discontinuità in mezzi rocciosi fessurati fratturati vi ricordo che è possibile lo avete visto adesso farlo con il FLAC 3D assolutamente poi che utilizza comunque un approccio al continuo poi c'è il software tridec e l'udec che è la versione 2D che vi permettono di utilizza il metodo agli elementi distinti e nasce proprio per la meccanica delle rocce quando è che può diventare sicuramente importante l'uso del tridec quando abbiamo a che fare sempre con problemi che riguardano massi rocciosi estremamente fratturati quindi finché il livello di fratturazione fa riferimento a dei piani di discontinuità con un numero finito ok quando andiamo in sistemi estremamente fratturati è chiaro poi che il metodo agli elementi distinti che offre l'udec o il tridec che permettono una rappresentazione sicuramente più gestibile dei blocchi e delle discontinuità i blocchi possono essere deformabili o indeformabili nel caso poi in cui il livello di discontinuità aumenti ancora di più e andiamo proprio sulla meccanica particellare molto utilizzato nell'ambito delle miniere o delle cave allora possiamo anche proporre il pfc che utilizza gli elementi distinti però proprio in termini diciamo particellari quindi non è più un continuo più elementi distinti ma è proprio elementi distinti quindi diciamo la parcellizzazione totale del sistema spaziale quindi sono le diverse opportunità fermo restando che avete visto che comunque il FLAC 3D pur con una modellazione al continuo che chiaramente è più vicina ai terreni ci si fa tranquillamente anche la modellazione di quelli che sono massi rocciosi e di sistemi di faglie con dei risultati molto molto interessanti vi ringrazio per la vostra attenzione spero che sia stato un argomento di interesse e vi auguro buon pomeriggio